Alla Playa de Palma, località turistica nell'isola di Palma di Mallorca, in uno dei locali fra i più noti della costa, il Medusa Beach Club in Calle Catargo, è crollata la terrazza travolgendo i clienti e i lavoratori che affollavano le sale e la terrazza all'ora di massima affluenza. Quattro le vittime e 27 feriti, dei quali quattro in gravi condizioni. Al momento non risultano italiani fra le persone coinvolte. Le squadre di emergenza con i vigili del fuoco, numerose ambulanze sono arrivate sul posto dopo le telefonate di allarme arrivate alla polizia e alla guardia civile. Il Medusa Beach Club è su due livelli, il piano terra e una terrazza al primo piano che secondo le prime informazioni avrebbe ceduto per motivi da accertare facendo sprofondare il locale. Secondo le testimonianze di abitanti nella zona il crollo sarebbe stato preceduto da un rumore sordo. Il sindaco di Palma e il vice sindaco si sono recati sul posto con la polizia per coadiuvare i soccorsi, dichiarati tre giorni di lutto. Al 90% non ci sono altre persone sotto le macerie. Ancora non sono chiare le causi che hanno provocato il cedimento della struttura, sulle quali il Tribunale di Palma di Mallorca ha aperto un'inchiesta.